So che nascondi qualcosa, Camille. Devo solamente dimostrarlo. La vita è più che inseguire la gloria, Ezreal. Jace, è davvero questo il modo per creare un domani migliore? Seraphine! Sarebbe inappropriato chiederti un autografo? Non pensavo che ti avrei affrontata di nuovo, V. I nostri valori non sono così diversi, ecco. Così come Piltover e Zuhun. Questa follia ha un senso, Jinx? O è solo un modo per sfogare il dolore? Questa volta, Urgot, ti spedirò in prigione di persona. Il progresso è essenziale per sopravvivere, ma non così, Victor. Beh, è sicuramente interessante. Zack, giusto? Dovrei essere la cavia per la tua ultima invenzione, Eimerdinger? Oh, uno Yordle. Che carino. Ho tutte le prove che mi servono. Qualunque cosa dirai può essere usata contro di te. Ti porto in centrale per interrogarti. Può finire solo con te dietro le sbarre. Camille, non mi fermerò finché non avrò le risposte. Ezreal, mi prendo questi manufatti come prova. Avremo un futuro luminoso, Jace. Te lo prometto. Aspettavo con ansia il tuo prossimo concerto, Seraphine. Non volevo questo, V. Non posso cambiare il passato, ecco. Ma insieme si può creare un futuro migliore. Forse Piltover sarà in pace senza di te, Jinx. Ma vii. Avrei preferito vederti in una cella, Urgot. La gloriosa evoluzione non sarà il nostro destino, Victor. Ci sono modi più facili per creare un mondo migliore, Zack. Spero che tu abbia avuto buoni risultati, Eimerdinger. Che spreco. Colpevole dell'accusa. Un arresto facile. Ti avrei preferito in manette. Sotto col prossimo caso. È dovuta finire così. Caso chiuso. L'ora del tè è finita. Da manuale. Pronti ad arrendervi? Si comincia. Fuori uno. Prassi perfetta. Risultati precisi. Beh, mi toccherà compilare un sacco di scartoffie. Caso chiuso. Muoviamoci. Difendo il perimetro. Perimetro sicuro. Non la definirei una difesa. Ti credi al di sopra della legge? Sbagli. Ammetti la tua colpa? Che gentile. Puntare, mirare... Perché non mi sorprende? Hai il diritto di restare in silenzio. Ti consiglio di farlo. Se il crimine non dorme mai, meglio preparare altro tè. Non alterate la scena del crimine. Fate i bravi, mia assenza. Dite a V che il caso va risolto. Io non posso deluderli. A quanto pare ho un nuovo sospettato. Lo aggiungerò alle accuse. Sono di nuovo sul caso. E questa volta non fallirò. Lo apprezzo molto. Evviva! Grazie. Sono felice che tu mi copra le spalle, V. Cerchiamo di fare pochi danni, ok? Ti terrò sotto stretta sorveglianza, Jinx. Hai già causato abbastanza caos. Devo ringraziare Chee per questa pista. Una vita in galera sarà un premio adeguato, no? Ormai sono vicina. Devo solo collegare tutto. Ogni caso. Ogni indagine. Mi avvicina di un passo alla giustizia. È facile ignorare il marcio sotto l'oro. Ma a me non sfugge mai nulla. Il mio dovere è proteggere i cittadini di Piltover. Ed è quello che farò. Deve essere il progresso a condurre Piltover nel futuro. Non potere e paura. Ripongo la mia fiducia in voi. Vediamo di chiudere questo caso. E cercate di non deludermi. Non si sfugge al lungo braccio della legge. Né al mirino del mio fucile. Non prendo ordini da Piltover, ma dal suo popolo. La legge non ha senso se non può proteggere la gente. Punto sempre alla vittoria. E ho una mira perfetta. Un buon investigatore rimane sempre calmo in ogni situazione. Non si deve mai iniziare un'indagine senza prima esaminare le prove. Io sbagliare? Mai nella vita. Risolviamo questo caso. Mi piacciono i misteri. Il mio lavoro è capire ciò che gli altri non capiscono. Una gerarchia solida è sempre fondamentale. Non sono qui per servire, ma per proteggere. Qualcuno ha chiamato lo sceriffo? Il cuore di Piltover è la sua gente. Non ci si annoia mai. La pista è calda. La pista è calda. Ci penso io. Indaghiamo. Anche il minimo indizio può svelare un caso. Un professionista tiene sempre a mente ciò che è intorno. Adoro gli inseguimenti. Non bisogna tralasciare nulla. Devo sempre essere tre passi avanti. Non tollero alcune illegalità. Non mi è concesso sbagliare. Preferisco questo alla scrivania. Il crimine è comune. La logica è rara. Nessuno è al di sopra della legge. Atteniamoci al protocollo. Finirò prima dell'ora del tè. Splendido. Boom. Dritto in testa. Come previsto. Vuoi un dolcetto? Attenzione alla trappola. Non fare caso alla trappola. Dove vai? Proprio dove ti volevo. Preso. Alto là. Alla larga. Ottimo colpo. Ripensaci. Sottotiro. Sto calibrando. Prendo la mira. Calma. Bersaglio marchiato. Perfetto. Non sbaglio mai. Ineccepibile. Bersaglio in vista. Prevedibile. Non intralciarmi. Finiamo in fretta. Miro alla vittoria. Deponi le armi. Nessuna esitazione. Cui è dove cadrai. Ora arrenditi. In posizione. Chiudiamola qui. Non fuggirai. Sospetto ingaggiato. Ti va una resa dei conti? Non sfuggirai ai tuoi crimini. Basta giocare al gatto col topo. Gli ho sottotiro. Non muoverti. Non muoverti. Non muoverti. Non muoverti. Non muoverti. Grazie a tutti